allora ci siamo buongiorno di solito eravate abituati insomma ad entrare un po prima al supermercato ma c'è un motivo particolare si con te si rinnova e lo fa in grande stile poi tra pochi istanti e lo vedrete questo è un appuntamento anche storico se vogliamo per il quartiere e per la città perché questo è un punto vendita importante storico che serve insomma questo quartiere da diversi anni lo fa con piacere insomma e con delizio abbiamo riaperto dopo 15 giorni anche tre settimane di chiusura una nuova proposta commerciale come si vede anche dall'entrata con il nuovo reparto ortofrutta un ampio banco pasticceria una selezione di gastronomia importante banco carne con l'inserimento della prolatura e il banco pesce ampliato è stato fatto anche un discorso di risparmio energetico per che prima non c'era all'interno della struttura oltre a me abbiamo anche altri 26 collaboratori che ci aiutano ogni giorno nella 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 accogliere la clientela una presenza ormai diciamo così storica nel quartiere in via coppi questa del supermercato diciamo che il supermercato questo è un supermercato storico trentennale nella storia di Iesi noi lo gestiamo ormai da sette anni e comunque ma facciamo parte anche noi della comunità del quartiere insomma